Si può visitare ancora per qualche giorno fino al 3 di giugno la mostra che raccoglie a Palazzo Wasserman di Toppo di Travesio una serie di opere di Napoleone Cozzi, pittore e alpinista di origini friulane ma vissuto tra fine ottocento e primi del novecento a Trieste dove partecipò alla vita politica cittadina nelle file degli irridentisti. Cozzi che fu allievo di Scomparini aveva oltre alla pittura la passione per l'alpinismo e faceva parte della società alpina delle giuglie. La rassegna curata da Melania Lunazzi raccoglie disegni, foto e tacquini di acquarelli, una sorta di diari illustrati delle avventure e delle escursioni di Cozzi e dei suoi amici che partivano da Trieste per avventurarsi sulle Alpi di Casa e sulle Dolomiti. Grazie a tutti.